Si è consumata nel cuore della notte la tragedia che ha coinvolto un uomo di 78 anni, colto da un improvviso malore. Nonostante l'intervento del 118, l'ambulanza è giunta al pronto soccorso dell'ospedale di Eboli quando il paziente era già deceduto. La causa del decesso sembra essere stata un infarto al miocardio. È in corso la ricostruzione degli eventi da parte dei carabinieri, dal momento della chiamata di emergenza all'arrivo dell'ambulanza, sino al trasferimento in ospedale. Si sospetta che i soccorsi siano arrivati in ritardo, compromettendo in tal modo la possibilità di salvezza del paziente. Il punto cruciale dell'inchiesta riguarda infatti i tempi e l'efficienza dei soccorsi. I medici dell'ospedale di Eboli hanno espresso il loro dispiacere, sottolineando però che il paziente è arrivato già privo di vita. Nel frattempo i carabinieri hanno acquisito la cartella clinica e tutta la documentazione relativa al caso. La salma dell'anziano, che sarà sottoposta ad autopsia, è stata posta sotto sequestro e si trova ora all'obitorio dell'ospedale Curto. Il primo step dell'inchiesta si concluderà entro il fine settimana, quando il PM deciderà se procedere con ignoti o individuare specifici responsabili. L'attenzione è rivolta ai tempi di intervento del 118 e alla gestione dell'emergenza da parte del personale sanitario. Questo tragico evento ha riacceso il dibattito sull'efficienza del sistema di emergenza sanitaria e sulla necessità di migliorare i tempi di risposta in situazioni critiche. Grazie. Grazie. Grazie.